No, non siamo in Lapponia, perché anche qui in Italia è possibile fare una corsa nella neve con slitte trainate dai cani. Ogni slitta è singola e abbiamo dovuto imparare i comandi da dare ai cani per partire, fermarsi e soprattutto abbiamo dovuto frenarli perché loro vogliono assolutamente arrivare in testa, anche se bisogna stare in fila. Certo, poi qualcuno si gira a guardarti male, ma è così che funziona. Quindi non basta lasciarsi trascinare e ci vuole un buon equilibrio. E alla fine della corsa ci sono le coccole, ma è una ricompensa per loro o per me. Dove siamo? All'Hasky Village di Val di Dentro, vicino a Bormio. Tagga la persona che sai adorerebbe l'esperienza.